Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video Registro questo video in una giornata terribile, fuori è scoppiato il temporale in realtà sta piovendo tutto il giorno, è una giornata grigia, sembra autunno e allora ci tiriamo un po' su il morale parlando di libri oggi vi voglio raccontare l'ultima riunione del mio club del libro per chi non lo sapesse o non mi seguisse da tanto io ho creato un club del libro diversi anni fa ormai quando ero la titolare di una cartolibreria avevo un piccolo negozio nel mio paese insieme alla mia mamma e all'epoca appunto creammo questo club del libro un gruppo di persone che si riuniva ogni mese, mese e mezzo circa per parlare di libri nonostante la chiusura del negozio il club del libro esiste tuttora e continuiamo a vederci ogni mese per parlare delle letture che abbiamo fatto nel mese precedente ogni mese io propongo una serie di titoli di solito collegati da un tema e vengono votati i libri che piacciono di più scegliamo sempre due titoli ma non è obbligatorio leggerli entrambi e appunto ne parleremo alla riunione successiva il tema di questo mese era letteratura americana contemporanea che io stessa conoscevo poco e che mi ha fatto molto piacere esplorare prima di parlarvi in dettaglio di quello che è successo il giorno del club del libro vi ricordo come sempre di iscrivervi a questo canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video e se non lo fate già seguitemi anche su instagram io sono martina tazza quindi venerdì scorso abbiamo avuto la nostra riunione mensile del club del libro per parlare appunto dei libri letti a tema letteratura americana contemporanea devo dire che di solito mi piace girare un vlog della giornata del club del libro però questa volta non sono riuscita a farlo perché ho avuto una settimana veramente impegnativa ero sempre di corsa e quando giro un vlog voglio avere un po' di calma ecco per poterlo girare al meglio comunque qualche clip della serata c'è quindi ovviamente ve la lascerò la nostra serata inizia sempre con il ritrovo a casa di uno dei membri del club in questo caso eravamo a casa della mia mamma e come sempre la discussione accompagnata da un buon tè che prepariamo lì per lì di solito dando a disposizione tanti gusti di tè sempre particolari e poi accompagniamo il tè con qualche biscottino qualche dolcetto insomma qualsiasi cosa venga preparata o comprata per la serata e poi inizia la discussione abbiamo per l'appunto parlato di due titoli e tra i libri che avevo proposto il mese scorso e tra i quali abbiamo votato i due da leggere alla fine sono stati scelti il caso ha voluto che siano stati scelti due libri dello stesso autore di Paul Oster quindi è stato scelto Follia di Brooklyn e Trilogia di New York abbiamo iniziato discutendo di Follie di Brooklyn il libro che io non ho letto io ho letto l'altro quindi vi racconto che cosa è stato detto riguardo a questo libro prima di tutto è stata raccontata la trama e a grandi linee vi posso dire che il protagonista di questo libro inizia la sua avventura cercando un posto per morire nonostante lui non abbia malattie particolari o comunque non ci siano dei reali motivi per cui lui possa pensare alla morte è semplicemente una persona anziana che comunque decide di trovare il posto giusto per morire la vita però ha tutt'altri piani per lui perché la sua storia si intreccia a quella di tanti altri personaggi alcuni sono suoi parenti altri no e ognuno di questi personaggi vive delle vicende molto particolari che in qualche maniera coinvolgono anche il protagonista le vicende raccontate sono tantissime si parla di truffe nell'ambito dell'arte così come di bambini abbandonati dalle proprie madri o di sette religiose veramente le avventure o comunque le situazioni nelle quali si ritrovano i personaggi sono davvero variegate e vediamo come questi reagiscono a quello che gli succede il libro è piaciuto a chi l'ha letto soprattutto alla mia mamma che mi ha parlato davvero con tanto ardore insomma le è piaciuto davvero molto le è piaciuta la storia perché chiaramente essendoci tante vicende tanti personaggi è sicuramente coinvolgente le è piaciuto il modo in cui ha creato i personaggi Paul Oster e anche questo non è scontato quindi tanti personaggi ognuno con le sue caratteristiche la sua personalità le sue vicende che diciamo ha reso ogni personaggio unico nel suo genere e quindi molto ben caratterizzato ma soprattutto le è piaciuta la scrittura perché Paul Oster ha saputo raccontare certe sensazioni certe situazioni utilizzando quasi un linguaggio poetico similitudini, metafore che hanno ricreato l'atmosfera che descrive perfettamente quella determinata situazione vi lascio adesso un'immagine con un piccolo paragrafo che la mia mamma ha condiviso con me per farmi capire quanto sia meraviglioso il suo modo di scrivere e di raccontare in questo caso l'età adulta insomma più matura delle persone quindi davvero molto bello ve lo lascio Joyce e io non eravamo ancora al dicembre della nostra vita ma senza dubbio maggio era decisamente alle nostre spalle noi due insieme eravamo come un pomeriggio della seconda metà di ottobre uno di quei luminosi giorni d'autunno sotto un cielo azzurro vivido refoli frizzanti nell'aria e un milione di foglie ancora sui rami marrone per lo più ma con ancora abbastanza ori e rossi e gialli per farti venire voglia di restare all'aperto il più a lungo possibile detto questo quindi il libro come ho detto tendenzialmente è piaciuto anche se alcuni lettori hanno ritenuto che ci fossero delle parti un po' superflue un po' lunghe un po' più noiose che forse se fossero state tagliate avrebbero reso la lettura un po' più scorrevole dopo questo poi abbiamo parlato di Trilogia di New York il libro che ho letto io purtroppo non ce l'ho qui con me perché l'ho preso in biblioteca e l'ho dovuto restituire il libro chiamandosi Trilogia si capisce bene racconta tre storie che alla fine diciamo si scopre che sono in qualche modo legati tra loro ma che nel concreto poi in realtà sono tre storie completamente distinte l'una dall'altra vi faccio un brevissimo riassunto delle tre storie giusto per darvi un'idea nella prima a causa di uno scambio di identità praticamente un uomo si ritrova a vestire i panni del detective e a dover pedinare un signore anziano appena uscito da mi sembra una prigione comunque un posto dove era stato per diverso tempo per essere riabilitato perché appunto deve controllare che questo signore non faccia del male a nessuno il tempo passa e per questo detective che poi in realtà detective non è l'oggetto diciamo del suo pedinamento diventa la sua ossessione tanto che lui annulla completamente la sua vita per tenere sott'occhio quest'uomo anche quando questo in realtà si rivela essere totalmente inutile nella seconda storia un detective questa volta un vero detective che lo fa di lavoro viene ingaggiato a tempo indeterminato per tenere sott'occhio una persona un altro uomo gli viene detto che il motivo del suo pedinamento riguarda diciamo questioni di gelosia questioni di cuore però ben presto il detective comincia a sospettare che questo sia il reale motivo gli viene affittato un appartamento proprio di fronte all'uomo che deve pedinare e comincia ad osservarlo peccato che quest'uomo non faccia praticamente mai assolutamente nulla non si veda quasi mai con nessuno non faccia mai niente di particolare se non scrivere e quindi il detective diciamo comincia a chiedersi come mai gli stia continuando a pedinarlo il fatto è che continua a farlo e anche in questo caso per lui diventa praticamente un'ossessione tanto che sta dietro a questa persona per un periodo lunghissimo di tempo lasciando completamente indietro la sua vita nella terza storia invece abbiamo un uomo che viene contattato dalla moglie di un suo vecchio amico questa donna gli dice che il marito è scomparso ormai da diverso tempo è sicura che quest'uomo sia morto ci sono degli scritti di suo marito che vorrebbe far visionare al protagonista della storia perché sa che erano amici una volta e che insomma chiede al protagonista di valutare questi scritti ed eventualmente di pubblicarli l'uomo quindi accetta di farlo gli scritti hanno anche un discreto anzi un grande successo ma anche in questo caso il protagonista comincia a credere che questa persona scomparsa non sia in realtà morta ma sia nascosta da qualche parte e anche qui ritorna il tema dell'ossessione comincia ad ossessionarsi perché vuole ritrovare questo vecchio amico per capire dove sia e perché abbia fatto questa scelta quindi vedete che in queste tre storie ci sono dei punti in comune c'è sempre un pedinamento quindi l'osservazione minuto per minuto tutti i giorni di una determinata persona e c'è l'ossessione da parte di chi sta pedinando perché l'oggetto del suo pedinamento diventa praticamente l'unico l'unica cosa importante nella propria vita quindi questa ossessione così forte si sente benissimo in tutte e tre le storie chiaramente tutte e tre sono ambientate a New York una città che viene descritta come caotica come una città che non è a misura d'uomo una città in cui è facile perdersi una città nella quale puoi camminare per ore e ore sempre in posti diversi e nonostante la sua grandezza e la quantità di persone che ci sono al suo interno sentirsi in realtà completamente soli un altro punto in comune è la scrittura in tutte e tre le storie è presente il tema della scrittura e tutte e tre le storie hanno dei finali davvero particolari per non dire assurdi almeno secondo il mio punto di vista il mio giudizio generale sulla storia sul libro è questo è vero che il libro è scritto molto bene è una scrittura scorrevole a me piace come scrive Paul Oster e l'ho letto tranquillamente ecco non è stata una lettura pesante il problema è che qui si raccontano delle storie che sono ambientate in un posto reale che è New York appunto ma che in realtà sembrano raccontare di personaggi e di storie che non sono reali perché i personaggi fanno delle cose davvero assurde ai nostri occhi leggere questo libro per me è stato come vedere un'opera d'arte moderna ok quindi mi sentivo come se io non avessi le competenze per riuscire a capire in pieno quest'opera e quindi e di conseguenza non mi stava piacendo non so se ho reso l'idea ma secondo me questo paragone rende davvero bene l'idea dopo tutto io mi rendevo conto di star leggendo un autore che è universalmente riconosciuto come un grande autore e quindi mi sentivo in difficoltà perché non credo di essere riuscita a capirlo in pieno quindi non so dirvi se il libro diciamo non mi sia piaciuto per una questione di ignoranza chiaramente o se è proprio una questione di gusti è un po' come per i classici no? quindi c'è chi li ama e chi magari qualche classico ecco non riesce proprio ad apprezzarlo nonostante sia anche in quel caso universalmente riconosciuto che siano delle opere d'arte praticamente quindi diciamo che è un titolo che ho letto volentieri perché volevo approcciarmi a quest'autore forse ho scelto il titolo sbagliato Folli di Brooklyn forse mi sarebbe piaciuto di più fatto sta comunque che sono contenta di averlo letto e di aver diciamo approfondito con i miei compagni del club del libro anche i vari significati che potevano avere le tre storie in ogni caso voi fatemi sapere chiaramente se avete letto uno dei due libri e che cosa ne pensate ma passiamo adesso al tema per il prossimo mese il tema del prossimo mese è libri dimenticati ho chiesto a ogni membro del club di portare un proprio libro che era nella loro libreria da tanto tempo perché siamo tutti lettori forti quindi capita a tutti di comprare più libri magari di quanti riusciamo a leggerne e di lasciarli poi nella libreria per tanto tempo quindi ho chiesto a tutti di portare un titolo che aspettava da più di un anno di essere letto bene i titoli scelti anche in questo caso sono due e sono l'analfabeta che sapeva contare e l'ho già preso perché era il titolo proposto dalla mia mamma quindi lei sta leggendo altro al momento quindi abbiamo cioè gliel'ho preso io ho letto 100 pagine mi sta piacendo tanto conosco l'autore quindi credo che non mi deluderà insomma lo sto leggendo con grande piacere il secondo titolo è il filo che brucia questo è un giallo thriller se non mi ricordo male dalla trama davvero molto molto intrigante quindi vi invito ad andare a leggerla e anche questo mi incuriosiva però diciamo è stata più una questione di praticità questo libro ce l'avevo lo potevo leggere quindi ho deciso di scegliere questo ma chissà che magari riesca a recuperare anche l'altro anche in questo caso vi rinnovo l'invito di partecipare con me a queste letture quindi se avete uno dei due libri o volete recuperarlo potete leggerlo anche voi e magari farmi sapere che cosa ne pensate se vi è piaciuto insomma tutte le vostre opinioni e i vostri pensieri e niente spero che questo video vi sia piaciuto aspetto i vostri commenti e noi ci vediamo prestissimo in un altro video ciao 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 ciao